Guardi, io sono da 30 anni che seguo queste cose, è iper garantista e penso che l'avviso di garanzia non è una condanna e quindi questo vale per tutti e vale anche per questo sottosegretario. Però è chiaro che c'è il dovere di spiegare, non si può dire semplicemente, come ha detto oggi il Ministro degli Interni, è una cosa assurda, vogliono far fuori la Lega, perché quando si comincia così si finisce sempre male, ci si difende nei processi e non dai processi, quindi per me è stata molto inquietante la reazione irresponsabile che c'è stata rispetto a un'accusa molto grave, il capo di un partito non può dire quando arriva un avviso di garanzia è un attacco brutale alla magistratura perché vogliono farci fuori, soprattutto se lo dice dopo 12 minuti e quindi in una condizione nella quale è impossibile sapere quello che è successo, almeno che lo sa, allora dovrebbe dire.